E' un concorso dinamico all'interno di questa bella manifestazione che noi abbiamo proposto già tre anni fa. Il 2019 è stata disputata la terza edizione, dopo due anni e mezzo di locco d'anno come ben sapete. L'abbiamo ripresa quest'anno tramite sempre grazie all'amministrazione comunale, quindi al sindaco, all'assessore Benate, all'assessore Ferro e a tutto lo staff dell'amministrazione. E' un grande merito, va ricordato soprattutto al nostro socio, nonché il signor Marian Saldi, che si è prestato e continua a operare sul territorio per questa nostra manifestazione che richiama sicuramente tanti collezionisti e tanti appassionati sul territorio di Alcamo, che è un bacino grosso, che ci sono molti appassionati di autodepoca. La manifestazione intanto è una manifestazione a calendario nazionale come evento club. Ci saranno presenti vetture che fra l'altro già abbiamo chiuso l'escrizione prima perché abbiamo avuto quest'anno un successone, come dicevamo poc'anzi, perché dopo due anni di sosta tutti gli appassionati si sono già prestati a iscriversi al nostro evento. E' una manifestazione non competitiva, quindi non ci saranno i cronometristi, l'associazione cronometristi, non ci saranno classifiche e quant'altro. Sono tre semplici sfilate per divertirci tutti perché ci condivide a tutti quanti gli appassionati la passione che si ha per il motorismo storico a livello nazionale.